Teatro Comunale alvia la stagione concertistica, musica da camera e il jazz in 10 spettacoli a tema. La stagione concertistica 2023 dell'ASAM promuove prevalentemente la musica da camera e il jazz nella città di Siracusa. Gli spettacoli proposti per un totale di 10 concerti da settembre a dicembre trattano le maggiori categorie strumentali classiche, dal recital solistico al duo al quartetto d'archi al quintetto con pianoforte fino all'orchestra da camera e al canto lirico. La realizzazione dei concerti a tema inoltre restituisce al pubblico una scelta organica e chiara in merito alla tipologia, alla formazione musicale e al repertorio proposto, richiamando l'attenzione verso gli eventi di successiva continuità tematica previsti nel triennio di programmazione al fine di garantire un maggiore coinvolgimento e un graduale rinnovamento degli spettatori.